Il testo di questa domenica è un testo molto interessante perché rappresenta una storia dentro un'altra storia. Gesù arriva su una delle sponde del lago di Tiberiade e arriva un uomo, che è il capo della sinagoga, non è uno qualsiasi, che ha una figlia malata e mentre Gesù sta andando a aiutare questa bimba di 12 anni, un'altra donna entra in scena. Allora questa storia è la storia di un numero, il numero 12, che compare due volte. Compare nei 12 anni della bimba che sta morendo e compare nei 12 anni che sono stati il tempo della sofferenza di questa donna, la quale donna è appunto una donna affetta da emorragia. Le due storie sono parallele e parlano di che cosa? Di un rapporto con un aspetto della vita. Sono due donne, una lo sta diventando donna, è l'età in cui sta diventando atta al matrimonio secondo l'uso ebraico, perché quando arriva il momento appunto della maturità, della fecondità, una bambina diventa candidata al matrimonio. Mentre ce n'è un'altra che è donna, è candidata al matrimonio da tanto tempo, ma sono 12 anni, che non può essere fino in fondo feconda, non può essere madre perché appunto è malata proprio lì, nella sua femminilità. Cioè sono due donne che non riescono a vivere la femminilità. Una non riesce a diventare donna, l'altra non riesce ad essere donna, a praticare la femminilità. Sono due immagini molto suggestive, molto profonde, molto importanti e che ci permettono di prendere contatto con la sfida della vita, la sfida dell'identità, la sfida dell'affettività, del ruolo, dell'importanza del nostro essere appunto, fecondi, capaci di generare. La prima lettura della liturgia ci pone di fronte a un testo molto bello e importante, dove si afferma che Dio non ha creato la morte e che ha fatto tutto per la vita, e che la morte è figlia del male, figlia dell'invidia del diavolo, e che Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità. Ecco che invece appunto nel Vangelo vediamo una bimba che sta morendo, una donna che ha la vita vessata, corrotta, non può dare la vita, non può essere madre. Allora, come si illuminano queste due cose? C'è evidentemente un piano di Dio che non va a compimento, c'è evidentemente qualche cosa che Dio ha pensato, ha programmato, che non si sta realizzando, Dio ha creato quella bimba per vivere, e questa donna per essere madre, ma non riescono. Cosa è successo? Allora, da una parte abbiamo il capo della sinagoga, di nome Gairo, il quale appunto ha una figlia e chiede a Gesù un atto ben preciso, vieni a imporle le mani. Cosa significa questo? Questo è un padre. L'atto dell'imposizione delle mani, oltre che essere un atto che poteva essere praticato a livello del culto in una qualche maniera, era fondamentalmente l'atto paterno, l'atto in cui il padre passava al figlio i beni. Ora, al di là del fatto che questa bimba sia appunto una donna e non poteva ereditare, secondo l'arcaica situazione, diciamo così, sociale, ebraica, il diritto familiare interno, che è appunto legato a tutta una ben precisa epoca, ma c'è questo fatto che lui doveva essere quello che imponeva le mani e gli passava la vita, gli passava il possesso della vita, ma lui non lo può fare, non lo riesce più a fare, perché questa bimba ha un problema, sta morendo, lui non la può salvare, ma chi è costui? È il capo della sinagoga e sta chiedendo a Gesù di fare lui l'atto paterno di imporle le mani. Sta lui cedendo la sua paternità a Cristo, rendendosi conto che lui non ha una soluzione. Lui è il capo della sinagoga, è il capo dell'assemblea ebraica. Tutto ciò è altamente simbolico, e manifesto anche, con un simbolismo che non è che ci vuole molto per coglierlo. Questa è l'antica religione, basata sulla legge, la quale non riesce a salvare la vita. C'è una bimba che non può diventare donna finché è la legge che la porta, finché è il capo della sinagoga, finché non arriva l'irruzione di Dio nella storia che ci fa passare dalla legge alla grazia, noi siamo incastrati dentro una condanna. La legge solamente è diagnosi, solamente ci può dire se una persona si sta comportando bene o male, ma non può cambiare la situazione. Per contro c'è una donna che sta cercando di risolvere i suoi problemi. In questa storia si vede che questa donna ha speso tutti i suoi beni con i medici e non ha avuto nessun miglioramento, anzi è peggiorata. Questa donna vede che le cose del mondo, la sapienza umana, i medici di questo mondo, non la salvano, la rovinano. C'è qualche cosa che azzera la capacità religiosa di cui il capo della sinagoga è rappresentante e che azzera le strutture umane, azzera le sapienze umane di cui i medici che non sanno curare questa donna sono rappresentanti. Bisogna toccare il Signore Gesù. Andando oltre lo schema della legge, andando oltre lo schema di quello che a noi ci sembra solamente condannato a morire, quando Gesù arriverà alla casa del capo della sinagoga, la bambina sarà dichiarata morta, è morta, e invece lui è vita, lui porta la vita. Cioè, finché noi stiamo con le strutture, le soluzioni, gli arzigogoli che sono semplicemente orizzontali, che sono le soluzioni dei medici e questa donna non guarisce, o gli sforzi religiosi che partono dal basso della nostra obbedienza, del nostro essere così coerenti, bravini, di organizzare per noi stessi una nostra capacità di seguire la volontà di Dio, noi non arriviamo da nessuna parte, ci vuole il Signore che ci dica a tutti alzati, che ci dica a tutti «Io posso fare quello che tu non puoi». Questa donna, per esempio, tocca il mantello di Gesù e toccandolo tocca la vita nuova, tocca un'altra forma di esistere e si ferma il flusso del suo sangue e lei può tornare a vivere la vita di una donna. Solo il Signore Gesù Cristo ci può consegnare pienamente la nostra identità, consegna a questa donna la sua femminilità e consegna a questa bimba la vita che lei non riusciva a prodare, a prendere, ad arrivare a vivere. Ecco, in questa liturgia domenica prossima noi possiamo veramente celebrare il fatto che arriviamo tutti con medici che non ci hanno aiutato molto e tutta una serie di nostre elucubrazioni religiose che sono nostre, che non sono l'incarnazione, che non sono il dono di Dio. Dio è quello che può toccare la nostra vita. Se noi lo tocchiamo ci darà una vita nuova. Il Signore Gesù Cristo è venuto perché noi passiamo dai medici di questo mondo al rapporto con Lui. Perché noi passiamo dai nostri sforzi, dalle nostre coerenze al suo amore per noi. Vivere del fatto che Lui viene da noi ci prende per mano e ci dice dai te lo dico io alzati vivere della sua parola sollevarci. di Dio